Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori da Katia Sala Buonasera da Fabio Panzeri benvenuti a questa prima puntata di una nuova trasmissione di Teleunica Primo Piano E ospitiamo per appunto l'esordio di questo nuovo programma Roberto Formigoni Ben ritrovato, un piacere averla nostro ospite Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a tutti Naturalmente insomma ripercorrere le vicende personali e politiche di Roberto Formigoni in una semplice intervista non è cosa facile, vogliamo cominciare dagli accadimenti più recenti quelli per lei evidentemente anche più dolorosi poche settimane fa, il 19 settembre in appello è stato condannato a sette anni e mezzo per il reato di corruzione in relazione al caso Maugeri San Raffaele non in questa sede vogliamo evidentemente fare una ricognizione di questa vicenda giudiziaria ma le chiedo semplicemente perché a suo parere i giudici non hanno ritenuto credibile fondata la sua difesa il perché bisogna chiederlo a loro certo che i fatti sono lì inoppugnabili e li possono vedere tutti tant'è vero che tantissima gente anche di opinioni più lontane dalle mie mi hanno telefonato per dire ma Formigoni, ma Roberto ma quello che ti sta succedendo è fuori dal cielo e dalla terra perché il reato di corruzione presuppone che un pubblico funzionario nel caso il Presidente di Regione faccia un favore illecito ad un soggetto privato e ne abbia una remunerazione in denaro il favore non c'è perché nella sentenza di primo grado viene detto favoriva le mitiche fondazioni San Raffaele e Maugeri attraverso delibere e atti di giunta allora le cose sono due le delibere e gli atti di giunta sono gesti collegiali non è che io il Presidente di Regione firma un atto l'atto viene votato in giunta dal Presidente e da 17 assessori e viene preparato da funzionari che hanno una loro responsabilità giuridica allora se quegli atti erano irregolari perché si condanna soltanto Formigoni e non gli assessori in particolare l'assessore della Stanità che ha preparato l'atto quindi atti collegiali non solo ma atti che erano stati giudicati corretti da il TAR Tribunale Amministrativo Regionale una magistratura importante la Corte dei Conti il Consiglio di Stato e lo stesso Tribunale Penale di Milano siccome ha assolto coloro che avevano steso quegli atti ha riconosciuto che quegli atti erano regolari quindi non c'è nessuna irregolaretà nessuna donazione a queste due fondazioni secondo non c'è la remunerazione hanno cercato in tutto il mondo denari che fossero stati consegnati a Formigoni hanno fatto le famose rogatorie quando si chiede a tutte le banche comprese quelle dei paradisi fiscali se c'erano dei conti intestati Formigoni, Formigani, Formighini il fratello, la sorella, il cugino non c'erano, non li hanno trovati perché d'altra parte io non avevo preso un euro parliamo però delle cosiddette utilità siccome il primo giudice è una cosa interessante il primo giudice di una persona è la sua coscienza la sua immagine in ordine a questa vicenda è quella di quel famigerato tuffo dallo yacht in acqua che sembra la sintesi un pochino su quel tuffo devo rimproverarmi una sola cosa uno stile veramente non meritevole un presidente di regione mi tuffo in piedi ma appunto io sono stato ospite di amici per qualche giorno a bordo della loro barca i giudici hanno ritenuto che essendo stato ospite per qualche giorno di quella barca io sono diventato proprietario di quella barca quindi mi hanno attribuito l'intero valore di quella barca è come se io le prestassi la mia macchina lei ha bisogno della sua e del meccanico per andare a Milano torna indietro lei me la riconsegna ma lei è diventato padrone della mia non solo ma l'anno successivo perché la cosa è andata avanti per un paio d'anni quell'amico aveva cambiato la barca ne aveva comprata un'altra come si fa con le auto evidentemente aveva avuto un prezzo dalla barca usata e quella nuova mi è stato valutato l'intero valore della seconda barca e poi della terza barca quindi 4 milioni e il valore delle barche da cui sono stato ospitato 600 mila euro provengono secondo il tribunale da un contributo elettorale che il signor D'Acco aveva chiesto alla Maugeri per me D'Acco ha detto in tribunale io l'avevo chiesto perché avevo bisogno non l'ho mai consegnato Formigoni a cui non l'ha detto uno e me lo sono tenuto io il tribunale non ha creduto a D'Acco ha mandato la guardia di finanza a verificare la guardia di finanza ha detto sì questi 600 mila euro sono passati dai conti del signor Maugeri ai conti del signor D'Acco e lì sono rimasti per 5 anni sono ancora lì e quindi è evidente che non erano arrivati a me però ugualmente il tribunale mi ha ritenuto proprietario di questo vede anche quindi le utilità concetto che si sono inventato non trovando i soldi no? perché la corruzione uno si fa dare i soldi non è che dice portami un giretto in barca sarebbe scoperto ma c'è anche una corruzione impropria il codice prevede anche una forma di corruzione ma una volta di più gli atti sono regolari perché tutte quelle magistrature le hanno ritenute regolari perché sono atti collegiali i soldi non ci sono è reato avere degli amici sì il tribunale ha giudicato un reato avere degli amici Formigoni i giudici hanno anche stabilito la confisca dei suoi beni entriamo un po' nel merito di questa questione anche perché è stato scalpore in alcuni casi anche un po' di sarcasmo e di malignità l'intervista che lei ha rilasciato al Corriere della Sera nella quale sostiene ormai di vivere solo con 2000 euro salvo che sia stata è la pura verità allora spieghiamo cosa le hanno confiscato mi sono stati nel 2014 all'inizio del processo mi è stato confiscato tutto quello che avevo poco o tanto che fosse in sostanza mi è stato confiscato sei appartamentini o meglio la quota parte di sei appartamentini che posseggo in comunione con i miei due fratelli quindi sei diviso tre sono due due appartamentini però li hanno sequestrati tutti quindi anche quello dei miei fratelli costringendo i miei fratelli a fare ricorso a pagare gli avvocati e restituendoli bontaloro ai miei fratelli tre anni dopo oggi per avere giustizia bisogna pagare un avvocato e pagarli tre anni dopo quindi mi hanno confiscato la quota parte di sei appartamentini tre utilitarie una che era in dotazione a me una al mio assistente di Milano una al mio assistente di Roma più due conti correnti su cui però sfortunatamente hanno trovato poche migliaia di euro da quel momento lì io non ho più potuto accumulare niente e loro non hanno potuto sequestrare niente questi beni scusi è un milione e mezzo come abbiamo letto sei milione e mezzo di euro questi sei appartamentini anzi due appartamentini se fossero venduti credo che non porterei a casa centomila euro con quelle che valgono oggi le case a Lecco non porterei a casa sono a Lecco questi appartamentini uno cinque a Lecco e uno a Sanremo non credo che al mercato immobiliare valga valgano più di questo le tre utilitarie potrebbero valere 6 mila euro l'uno e i due conti correnti con su pochi quindi mi hanno sequestrato ma anche vitalizio poi calma questo nel 2014 non contenti di questo la corte dei conti il mese di maggio quindi quando già non ero più parlamentare non ero più senatore ma avevo la pensione per gli anni trascorsi in politica attenzione la pensione non il vitalizio perché al vitalizio ho rinunciato ha fatto un provvedimento per sequestrarmi l'intero ammontare della pensione che è un provvedimento incostituzionale perché la Costituzione dice che la pensione di chi che sia può essere sequestrata nella misura del 20% perché la pensione è quella con cui io non dire può essere accadita loro hanno fatto un gesto incostituzionale lo sanno che è incostituzionale come se lo sapevano che non potevano sequestrare gli appartamentini mio fratello e mia sorella ma siccome l'obiettivo è quello di mettere di far scontare la pena prima ancora che ci sia la sentenza definitiva intanto mi hanno sequestrato l'intero montare della pensione ecco perché ho detto per fortuna avevo messo via 2000 euro per fare un viaggio ovviamente ho rinunciato al viaggio vivo con questi 2000 euro e mi sto inventando dei lavori dei lavoretti delle consulenze perché non voglio vivere a carico d'altri e non posso vivere d'aria adesso quali sono le sue aspettative o la sua strategia in vista della Cassazione beh guardi è evidente che io ricorrerò in Cassazione attendiamo che esca la sentenza di secondo grado ma che però ripercorrerà le cose che il primo grado ha detto sto attrezzandomi perché in Cassazione occorre anche avere degli avvocati cassazionisti e quindi dovrò affrontare altre spese i miei avvocati li ho pagati poco o niente sono in debito anche con loro anche questo altro avvocato vedrò come potrò fare e comunque continuo a sostenere la mia totale innocenza argomentandola come ho fatto con voi non c'è il reato perché Maurgeri e San Raffaele non hanno avuto una lira in più di quello che loro aspettava i soldi che hanno avuto Maurgeri e San Raffaele li hanno avuti anche gli altri ospedali di Lombardia anzi gli ospedali pubblici hanno avuto l'85% di quella cifra il 15% l'hanno avuto i privati ma non soltanto Maurgeri e San Raffaele ma anche tutte le altre istituzioni privati in Lombardia secondo una legge una legge pensate che fu votata anche dall'opposizione anche dal partito democratico che la ritenne una legge giusta quindi l'intero consiglio regionale votò quella legge per la quale io sono condannato sette anni e mezzo la condanna si sarà confermata in Cassazione perché dovrebbe essere confermata io mi auguro finalmente a Roma di trovare un giudice che guardi in faccia le cose e dica come stanno se ovviamente andrà incontro a una qualche forma di limitazione della sua libertà personale guardi su questo il mio ci sta pensando no non ci sto pensando nel senso che il mio sono un uomo di giustizia sono un uomo di istituzioni se dovrò affrontare delle conseguenze le affronterò continuando a proclamare la mia innocenza d'altra parte purtroppo la giustizia in Italia ha già sbagliato tante di quelle sentenze ci sono in tanti innocenti in carcere per negligenza della giustizia e a volte per dolo per inganno purtroppo il funzionamento della giustizia in Italia è una delle piaghe peggiori che fra l'altro ormai gli stranieri hanno visto il cattivo funzionamento della giustizia tiene lontani tanti investitori stranieri insieme alla burocrazia insieme alla complicazione delle leggi eccetera anche la regione si è costituita parte civile nel dispositivo lo ha fatto Maroni c'è una provvisionale a suo carico lo ha fatto Maroni salvo poi dover far marcia indietro quando gli ho detto bene caro Maroni tu ti sei costituito parte civile contro di me adesso però c'è un processo contro un tuo assessore e anche contro te stesso ti costituisci parte civile anche contro te è giusto tutti vanno trattati allo stesso modo ha preferito ritirare la denuncia di parte civile contro di me quindi diceva adesso si sta inventando qualche lavoro la politica però la politica continua a farla la politica continua a farla perché l'ho fatta da giovane senza candidarmi da nessuna parte con amici lei ricorderà ho inventato il movimento popolare nel 1975 la prima candidatura sarebbe stata nove anni dopo al Parlamento Europeo il movimento popolare l'attività sociale animazione culturale dibattito lo stesso sto facendo oggi ho detto da subito dopo il 4 marzo che non mi sarei più ricandidato per nessuna carica istituzionale ma avrei continuato a far politica a dar consigli a chi me lo chiedesse in molti me li stanno chiedendo e soprattutto ad aiutare i giovani che lo vogliono a lanciarsi in politica perché abbiamo bisogno di energie fresche e nuove che si lanciano in politica e se vengono a chiedere un aiuto a me volentieri lo do ma sotto quale tetto o meglio sotto quale casa l'ultima volta io mi sono candidato in noi con l'Italia esatto un partito che non ha raggiunto il quorum d'altra parte si è formato all'ultimo momento eccetera eccetera oggi siamo comunque nell'ambito dei moderati dei cattolici dei liberali alternativi alla sinistra ma alternativi anche a questo governo giallo verde che sta facendo tanti di quei disastri che ormai anche i loro elettori se ne stanno accorgendo restiamo alla sua biografia politica una cosa di cui è particolarmente orgoglioso della sua carriera e una cosa lo confessi che non rifarebbe mi permetta di dire che le cose di cui posso essere orgoglioso sono tante anche perché non le ho compiute mai da soli cioè Formigoni non è mai stato l'uomo solo al comando ma questa è la percezione esattamente che ho sempre usato la collaborazione di altri questa è la percezione lesta direi no direi del leader sì sono leader certo ma il leader è vero quando sa ascoltare gli altri e poi si assume la responsabilità della decisione non dominus gliene cito due non dominus gliene cito due primo anno di grazia 1990 sta per scoppiare la guerra in Iraq la guerra del Golfo Saddam aveva sequestrato 10.000 occidentali tutti i paesi erano andati a prendere i loro la Francia lo aveva fatto gli Stati Uniti la Germania l'Italia non lo aveva fatto si parlava di una missione di Fanfani non la fece io ero vicepresidente del Parlamento Europeo organizzai una delegazione ecco leader ma mai da solo e andai a trattare con le autorità irachene e mi portai a casa su un giambo 250 italiani e 150 stranieri non volevo riconoscere che il merito era di Formigoni fecero dirottarono la stampa che mi aspettava i parenti che mi aspettavano a un altro scalo a un altro aeroporto ma il risultato è quello un'altra cosa di cui sono molto contento il Buono Scuola quello che abbiamo istituito in Regione Lombardia che ha permesso ai genitori di poter scegliere la scuola per i loro figli la scuola che preferiscono guardi anche oggi ancora oggi proprio in questi giorni mi capita di incontrare delle signore per strada piuttosto che un convegno che si alzano e vengono a salutarmi e dicono Formigoni ti ringraziamo perché grazie al Buono Scuola abbiamo potuto mandare i nostri figli nella scuola che preferivamo una colpa, un errore, una macchia? guardi peccati ne ho fatti tanti e ne continuo a farne alla sera quando faccio l'esame di coscienza mi accorgo che delle cose reati mai francamente reati mai quindi poi forse è stata una cosa più opportuna o meno opportuna ho avuto anch'io i miei scatti di ira una persona potevo trattarla meglio trattarla peggio certo sono cose di cui bisogna pentirsi ma che non macchiano i tanti anni di politica che ho fatto aveva detto quando si è aperto il caso l'inchiesta giudiziaria Maugeri San Raffaele che avrebbe vinto 12 a 0 se non ricordo male nel frattempo è aumentato perché i processi sono diventati 16 finora i processi che si sono conclusi contro di me sono 16 e ho vinto in tutti a 16 quindi salvo questo salvo questo che è il 17 che non si è ancora concluso ma questo però che cosa voglio dire con questo che la magistratura nei miei confronti ha sempre avuto un'attenzione diciamo particolarissima qualunque cosa facesse formigoni bisognava guardarla con il microscopio pensi che mi hanno mandato il primo avviso di garanzia per un provvedimento che noi prendemmo nella terza giunta nella terza seduta di giunta della mia prima giunta il 1995 quando chiudemmo un baraccone che perdeva 8 miliardi e mezzo di lire all'anno lombardia risorse mi accusarono di avere chiudendo lombardia risorse dissipato il patrimonio regionale ovviamente vinse ma intanto mi mandarono l'avviso di garanzia un'altra volta mi mandarono l'avviso di garanzia perché lo smog lo smog era colpa di formigoni si inventarono una fattispecie di reato mi mandarono l'avviso di garanzia per lancio di oggetti nell'aria lo smog era formigoni che lanciava degli oggetti nell'aria e provocava l'inquinamento dell'aria errori giudiziari o accanimento? no giudichi il telespettatore secondo lei so che in quel caso lì del lancio di oggetti nell'aria rise tutta Milano rise tutta Milano dire che lo smog era provocato da formigoni che lanciava degli oggetti dell'aria rise tutta Milano ritirarono l'accusa ma intanto l'avviso di garanzia me lo mandarono e intanto le opposizioni i miei avversari potevano ecco formigoni che ha fatto qui ha fatto là quindi voglio dire 16 causi su 16 mi auguro di mantenere il record non tanto per passione del record ma perché so di non avere commesso reale c'è una similitudine in questo con Silvio Berlusconi certamente sì c'è una similitudine con Andreotti c'è una similitudine con Craxi viene il dubbio che quei politici che acquistano fama notorietà e che governano bene nel mio caso lo dico senza rossire perché mi sono testimoni cittadini lombardi ho governato bene abbiamo governato bene chi ricorda la sanità prima di formigoni e dopo formigoni sa il salto enorme in positivo che c'è stato avendo governato bene formigoni andava fermato senta a proposito di sanità il presidente Fontana ha in qualche modo lanciato un allarme i costi della sanità sono sempre più difficili da onorare da sostenere e siccome la sanità di oggi in regione Lombardia in qualche modo si inserisce nel solco tracciato dai suoi anni di presidenza cosa sta succedendo l'equilibrio c'è l'equilibrio sanità pubblica sanità privata l'equilibrio finanziario di questo sistema socio sanitario regionale la qualità la qualità anche delle prestazioni e i tempi la qualità delle prestazioni rimane io devo dire poter garantire anche in futuro devo dire una volta di più che la giunta che si è posta tra me e Fontana cioè la giunta Maroni non ha fatto a sufficienza per mantenere l'efficienza di quel sistema che noi gli consegniamo perché la sanità privata è una macchina complicatissima e delicatissima è come una formula 1 va revisionata costantemente va tenuto in grata attenzione quindi purtroppo la qualità della sanità lombarda dagli anni Formigoni a quelli Maroni è scesa le classifiche lo hanno testimoniato eravamo i primi in Italia una inchiesta fatta l'anno scorso ha collocato al settimo posto la sanità lombarda adesso mi sembra che Fontana stia agendo bene per riportare la sanità all'eccellenza di un tempo c'è il problema dei tempi d'attesa i cittadini sono tornati lunghi i tempi d'attesa sono tornati lunghi i tempi d'attesa noi allora prendemmo dei provvedimenti anche impopolari perché di fronte alla lunghezza dei tempi d'attesa io capì che bisognava buttare dei fondi per convincere i medici a lavorare anche il pomeriggio alla domenica in orario sera parliamo della sanità pubblica parliamo della sanità dei miei tempi e dissi ai cittadini lombardi sono convinto che voi siete d'accordo con me dobbiamo tenere il massimo di qualità ho bisogno di mettere il ticket misi il ticket la qualità della sanità lombarda migliorò e alle elezioni trionfai bisogna avere il coraggio di fare scelti impopolari quando sai che ottieni dei risultati positivi poi la cosa appunto negli anni scorsi lentamente degradò adesso mi auguro Fontana con alcune leggi che in testa l'ho parlato li ho incontrato ha delle buone idee e credo che potrà fare bene ha parlato di Berlusconi proviamo a trovare attorno a questo tavolo un momento di verità sui suoi rapporti con Berlusconi cosa non ha mai fatto sbocciare fino in fondo l'amore politico l'intesa e cosa in qualche modo dunque di conseguenza ha frenato la sua scalata le racconto un episodio del centrodestra le racconto un episodio che è emblematico inedito no inedito no perché diventò di dominio pubblico ma ricordiamo però ce ne racconti un inedito ricordiamo qui ma per capire nel 2008 dopo 13 anni governo in regione Lombardia io disse a Berlusconi che era il capo del mio partito secondo me 13 anni sono sufficienti vorrei venire a Roma a fare che cosa? a dare una mano al governo vedi che lui tentennava non voleva avermi al suo fianco temeva forse la mia presenza dentro il suo governo allora tornate lui e gli dice senti se vuoi mi offro per un compito istituzionale per esempio presidente del senato allora presidente della camera era stato designato Fini presidente del senato aspettavo un uomo in Forza Italia e lo scondisce bravissimo Roberto sarai presidente del senato non si limitò a dirlo a me ma la domenica successiva a San Stiro che era uno dei luoghi della politica convocò i giornalisti convocò i vari amici e disse il nostro Roberto sarà presidente del senato stravincemmo le elezioni una settimana dopo disse no Roberto non sarai presidente del senato non mi voleva a Roma ma lei ha detto era il capo del mio partito ma lei fa un po' fatica ad ammettere l'esistenza di un capo sopra di sé era il presidente del partito a cui allora derivo certo voglio dire io ho sempre goduto di un seguito molto ampio a prescindere dai partiti nei quali ho militato ho ricordato prima l'esperienza del movimento popolare poi tante tante altre in quegli anni in cui eravamo in Forza Italia prima nel PDL dopo da Movita Rete Italia che non era una corrente ma era un gruppo di persone che si ritrovavano sistematicamente a riflettere a ragionare eccetera quindi io ritengo di aver portato un contributo in termini di voti ai partiti nel quale mi sono candidato negli anni settanta Zaccagnini segretario della DC valutò in un milione di voti il contributo che il movimento popolare diede alla democrazia cristiana ed eravamo a metà degli anni settanta passando a 95 noi eravamo cresciuti forse il contributo di voti che portavamo forse Italia fu ancora più significativo la nostalgia di quei tempi della DC ci vorrebbe una nuova DC un nuovo soggetto capace di raccogliere i moderati questo sì questo sì che però non potrebbe essere la democrazia cristiana io credo ma quanto prenderebbe nella stagione del populismo ma guardi nella stagione del populismo certamente in questo momento prenderebbe poco però quello che conta di più in politica la fedeltà ai propri valori è capacità di impegnarsi per quello in cui si crede poi la ruota della storia gira guardate Renzi quattro anni fa sembrava imbattibile invincibile destinato ad essere re d'Italia quattro anni dopo è ridotto non dico nella polvere ma quasi il governo giallo verde non durerà moltissimo perché non riuscirà a realizzare gli obiettivi che ha promesso agli italiani e che continua a sbandierare e gli italiani lo capiranno e andranno in cerca di qualcosa d'altro allora lo dico ai miei giovani amici bisogna avere il coraggio di continuare a proporre le nostre idee che sono basate sulla centralità della persona la centralità della famiglia il lavoro la sussidiarietà il rispetto dello stato e delle istituzioni per la persona torneranno i tempi bisognerà attraversare un periodo di opposizione ma torneranno i tempi in cui queste idee giuste avranno il riconoscimento della gente ma lo vede un leader di una formazione di un'aggregazione con queste caratteristiche in questo momento non c'è in questo momento non c'è però c'è tanta gente in gamba che vuole essere protagonista che vuole partecipare da aiutare a crescere a diventare protagonista a proposito di ruota della storia riavvolgiamo di qualche decennio dei lancetti della sua storia personale e ascoltiamo un brano un passaggio di un'intervista che risale Katia al 1989 1989 che abbiamo tratto c'era ancora il muro il muro di Berlino c'era ancora il muro se fosse vero che fossimo così chiusi allora non starebbe in piedi l'altra accusa che è quella di spregiudicatezza di apertura di rapporto con tutti in realtà quello che cerchiamo di essere è di essere come cristiani come credenti fedeli all'insegnamento della Chiesa e in particolare di essere fedeli 24 ore su 24 anche nell'impegno sociale alla dottrina sociale della Chiesa questo però non ci fa rinchiudere su noi stessi al contrario ci fa essere appassionati a intessere un dialogo anche con chi la pensi in maniera diversa da noi senza fare velo per il fatto che su certi punti importanti altri esprimono un parere diverso da noi nei partiti c'è il buono e il cattivo come c'è all'interno della società c'è chi cerca di usare dei partiti per fare il proprio interesse l'interesse del proprio gruppo e c'è chi cerca attraverso la politica di migliorare questa società o meglio di garantire più ampie condizioni di libertà e di democrazia l'importante è che ognuno di noi che ogni cittadino eserciti sempre la libertà di giudizio sia critico sappia distinguere l'uno dall'altro degli uomini politici rieccoci in studio Formigoni che fine hanno fatto i cattolici in politica fermo restando che i cattolici sono una razza variegata ma in chi o dove lei ravvisa i segni dei valori cattolici nell'azione politica oggi beh in questo momento è molto difficile in effetti in questo momento in politica pare esserci un'eclissi dei cattolici c'è qualche cattolico presente nelle aule parlamentari ma non c'è una presenza organizzata non c'è una voce unica che faccia sentire quella visione cristiana delle cose che è così importante in una società come quella italiana non è che tutti necessariamente devono essere cristiani ma l'Europa e l'Italia sono nate anche con il contributo fortissimo dei cristiani che manchi è una perdita per tutta la società e quest'anno non ha partecipato al meeting di Rimini non è stato invitato non sono stato invitato e non ho potuto partecipare perché avevo altri impegni avevo assunto ma si sente ancora parte di quel mondo o ha avvertito assolutamente sì ha avvertito una presa di distanza nei suoi confronti no 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 assolutamente sì voglio dire io sono di comunione e liberazione il movimento popolare purtroppo è stato chiuso molti lo rimpiangono vorrebbero riaprirlo ma comunione e liberazione è la visione cristiana della vita appunto Don Giussani ha fatto di me che pure era un cristiano educato in famiglia all'oratorio eccetera mi ha aperto l'orizzonte del mondo e quindi è parte di me non potrei farne a meno neanche volendo poi quanto al meeting di Rimini anche lì l'ho fondato io assieme ad alcuni amici nel 1980 quando c'era il deserto nella gioventù italiana perché è finita l'ubriacatura della contestazione di sinistra i movimenti di sinistra erano rifluiti nel disastro i suicidi di lotta continua la droga il terrorismo finito tutto spunta inaspettato questo fiore di comunione e liberazione del meeting di Rimini una gioventù nuova diversa 1980 prima edizione nel 1981 viene il presidente del consiglio il primo presidente non democristiano Giovanni Spadolini lì addirittura accetta un rovesciamento il protocollo quando parla il presidente del consiglio è l'ultimo a parlare io gli ho dissi cari presidente tu parli e io chiudo e lui accettò nel 1982 sarebbe venuto Giovanni Paolo II e poi un mucchio di altre personalità una cosa straordinaria com'è cambiato Formigoni di oggi rispetto al Formigoni di 30 anni fa che abbiamo rivisto al di là del look e dell'aspetto esteriore diciamo guardi le cose che mi appassionavano 30 anni fa o 40 anni fa sono ancora le stesse ho potuto verificare che erano cose vere quelle che ci sono state insegnate ho potuto verificare addirittura che in politica si può fare una politica ispirata a quei valori di difesa della persona della famiglia non è diventato lei un po' più cinico frequentando il potere così da vicino guardi credo proprio di no credo proprio di no tant'è vero un punto che in tanti mi dicono ma sei lo stesso sei lo stesso di allora ho visto il cinismo ma non mi attarare non mi diverte preferisco semmai un motto di generosità in più uno slancio in più casomai poi essere deluso dall'avere riposto fiducia o dall'avere offerto la mia amicizia a chi non corrisponde però non si può essere tirchi nella vita non ci si può risparmiare è bello impegnarsi darsi da fare sapendo che alla fine i conti tornano e quello che hai dato lo riceverai a proposito di centralità della persona a volte nei cattolici scatta una sorta di cortocircuito nell'abbracciare e nel comprendere un'idea di diritti civili sempre più sempre più larga pensiamo alle unioni civili pensiamo al concetto di testamento biologico perché a volte c'è questo punto di fatica o di difficoltà ad accettare una visione più ampia laica dei diritti civili lei la chiamo una visione più ampia io la chiamo una visione diversa voglio dire si tratta di vedere che cosa è più conveniente per l'umano che è in noi per valorizzare ciò che ci fa uomini e donne evidentemente ciò che ci fa persone no? io ritengo per esempio nel campo parliamo problema delle unioni di fatto delle coppie omosessuali ma l'uomo e la donna sono fatti per unirsi tra di loro in un amore eterosessuale destinato al completamento delle due personalità perché l'uomo e la donna si completano a vicenda e può scattare il miracolo di una vita nuova che viene da ecco questa per me è la pienezza dell'umanità piuttosto che non un rapporto omosessuale addirittura parificato al matrimonio perché questo si vuole dire oggi ma cosa manca alla genuinità all'autenticità di un sentimento di amore fra due persone omosessuali cosa manca rispetto allora manca molto torno a dire l'uomo è fatto per unirsi con la donna e la donna è fatta per unirsi con l'uomo io rispetto l'omosessuale che abbia un rapporto ma non sono d'accordo con la sua pretesa di dire il matrimonio di un uomo e una donna è identico al matrimonio tra me e il mio compagno non è così io ti rispetto non ti condanno però significa creare cittadini di serie B ma perché ma perché ma no assolutamente no infatti io non mi sono opposto alle unioni civili cioè a due uomini che desiderano convivere dicendo noi non decidiamo di stare insieme ma non possono pretendere di parificarsi con il matrimonio o addirittura di arrivare a quella pratica orrenda dell'utero in affitto quando due uomini pretendono di dire noi siamo capaci di generare un figlio ma non dire storie non dire balle posso dire questa espressione non dire balle due uomini che generano un figlio sappiamo come funzionano hanno preso una donna in un paese povero l'hanno pagata perché col seme dell'uno o dell'altro o un mix dei due semi dei due maschi la donna mettesse il suo contributo portasse dentro di sé per nove mesi una vita che poi gli è stata strappata ma quel bambino è figlio di quella donna e del seme di quell'uomo non è figlio dei due uomini mi spiace questa è la mercificazione del corpo della donna ed è privare il bambino dell'opportunità di avere una madre che non conoscerà mai e un padre Papa Francesco però ha detto che sono io per giudicare infatti anche io ho detto che non giudico non giudico il sentimento di un uomo per un altro uomo o di una donna per un'altra donna ma giudico che due uomini da soli non riescono a generare un bambino e neanche due donne da soli non riescono a generare un bambino c'è bisogno di un intervento di un altro che nel caso di una coppia omosessuale maschile è aberrante perché si prende una donna povera la si paga e poi le si strappa il figlio che lei ha generato che lei ha mantenuto dentro di sé per nove mesi questa è una pratica infame che andrebbe vietata in tutto il mondo e non giudica nemmeno chi decide di porre fine alla propria vita o alla vita altrui di fronte per esempio all'accanimento terapeutico in un atto anche di riconoscimento della dignità no non giudico dico soltanto che non è vero che ci siano dolori insopportabili oggi la scienza rende come dire attraverso le cure palliative eccetera qualunque dolore fisico può essere controllato quello che purtroppo tante volte non viene considerato è il dolore psichico la persona lasciata da sola lasciata morire o addirittura fatta sentire come superflua molti preferiscono la morte indotta perché si sentono abbandonati quindi non giudico ma dico attenzione a non scaricare le nostre colpe che dovremmo questo si permette non c'entra col testamento biologico o con una manifestazione di volontà di disposizione di trattamento anche il testamento biologico voglio dire è stata fatta il testamento biologico significa che io adesso che sono sano capace di tutte le relazioni del mondo scrivo oggi quello che deciderò in una situazione diversa permettetemi di dire che davanti a quella situazione non so come reagirò quindi devo avere la possibilità di intervenire allora o i miei parenti che sono quelli che mi conoscono di più devono avere la possibilità allora in limine mortis di interpretare la mia volontà e chi vuol farlo lo fa ma attenzione dico anche questo è una costrizione è in questa società che vuole eliminare lo scarto uso l'espressione di Papa Francesco la cultura dello scarto per cui una persona che non è bella che non è in piena salute è da scartare attenzione l'eutanasia è una cosa inaccettabile significa che quando tu sei vecchio diventi di peso per la società puoi essere fatto fuori questa è la cultura sottesa a tanti provvedimenti oggi che sui quali io voglio discutere voglio dire ma è più umano pensare a della gente che è capace di accudire il nonno la nonna vecchi dementi perché quando ha l'alzarme sai che è così ma amorevolmente con passione lo curano o che invece lo consegnano a qualcuno perché si è fatto fuori cos'è più umano io voglio discutere non pretendo di avere ragione ma le mie ragioni sono queste voglio confrontarmi con altre invece molto spesso la voce dei cattolici viene chiusa viene impedita di pronunciarsi ovviamente c'è stato il caso Eluana Inglaro non ripercorriamo quella vicenda pensiamo a Eluana Inglaro però pensiamo all'amore infinito che le suore di Lecco hanno avuto per quella ragazza pensa che non abbiano avuto un amore infinito nei confronti di Eluana auguro loro di averlo avuto però le suore l'accudivano e l'avrebbero accudita fino alla morte naturale il padre e la madre non l'hanno accudita fino alla morte naturale hanno ritenuto che dovesse morire fra l'altro in un modo pazzesco non togliendole un accadimento terapeutico ma smettendo di nutrirla smettendo di darle cibo e acqua perché la sospensione della somministrazione di cibo e acqua non è la sospensione di una cura invasiva io tolgo il cibo e l'acqua lei sa che Beppino Inglaro chiaramente ha una visione diametralmente opposta assolutamente sì assolutamente sì e di fatti anche qui decidono le persone se è più umano continuare ad accudire una persona e a somministrarle cibo e acqua o togliele anche cibo e acqua conviene però che l'istituzione è laica e quindi sarebbe importante che ogni cittadino potesse decidere della propria libertà e della propria esistenza oggi è assolutamente così che uno decide ma si vuole imporre agli altri questo torno a dire se la mentalità è quella tu devi scrivere le disposizioni anticipate di fine vita quando sei sessantenne in piena forma eccetera dovrai decidere allora cosa farai un momento vuoi farlo fallo però io ti dico non c'è un dovere è una facoltà concessa che non leva nessun altro diritto attenzione quando però si leva il diritto all'obiezione di coscienza si leva un diritto oggi il medico che volesse fare l'obiezione di coscienza non può fare l'obiezione di coscienza questo è inaccettabile è un crinale delicato però l'obiezione di coscienza anche il sindaco Lucano a modo suo ha esercitato una forma di obiezione di coscienza facendo matrimoni violando delle leggi e il medico che non accetta di applicare la legge sono due aspetti l'obiezione di coscienza è il fondamento della libertà in America viene riconosciuta l'obiezione di coscienza in ogni campo proprio perché è il fondamento della libertà e il medico soprattutto lo può rivendicare il giuramento di Epicuro dice non parteciperò mai non somministrerò mai ad una donna nessun medicinale abortivo ipocrate oggi questo è superato ci sono medici che somministrano medicinali abortivi ma che sia rispettata la volontà di chi dice no io non voglio partecipare ad un aborto oggi invece si tende a dire no dobbiamo fare concorsi per assumere medici che facciano l'aborto è obbligatorio fare l'aborto no se non viene rispettata la libertà di coscienza viene violato uno dei diritti fondamentali della persona siamo quasi in chiusura Formigoni lei tornerà a Lecco a questa ambizione questo desiderio beh Lecco nel cuore mi sta ovviamente Lecco è la mia città natale sono le mie radici qui ho ancora dei parenti mio fratello mia sorella i miei cognati tanti nipoti tanti amici quindi mi piace tornare a Lecco ho accettato molto volentieri il vostro invito però io abito a Milano i miei rapporti sono a Milano la molteplicità di rapporti che ho sono a Milano quindi intendo continuare ad abitare a Milano si sente tradito da qualcuno dopo questa vicissitudine soprattutto mi permetta la perdita anche di un potere che la posta ai livelli massimi diciamo delle istituzioni la perdita del potere è una cosa che chiunque deve mettere in conto perché c'è una stagione per me i 18 anni presidenza di Regione la perdita sono stati anni straordinari straordinari in cui ho potuto fare insieme ai miei collaboratori tantissime cose positive quindi anni entusiasmanti ma è chiaro che era un'epoca che sarebbe finita e quindi non soffro la mancanza di questo quanto al fatto di qualcuno che mi ha tradito so bene che tanta gente mi è rimasta vicina e alcuni mi hanno abbandonato conosco i nomi i cognomi di chi non ha avuto il coraggio di riconoscere quello che avevamo fatto insieme però sono molti di più io oggi vado in giro per Milano mi piace prendere la metropolitana i mezzi pubblici ad andare in giro c'è ancora tanta gente che mi saluta che attraversa la strada per venirmi a dire ma quando torni tu perché mia nonna in ospedale aveva adesso non ha più i ragazzi che vogliono fare i selfie con me ogni tanto c'è qualcuno che invece qualche insulto qualche critica ma è ovvio anche questo voglio dire io quando ho stravinto le elezioni nell'anno 2000 ho preso il 64% di voti quindi anche allora c'era un 36% che non era d'accordo con Formigoni oggi c'è un 40% 45% è naturale chi fa politica sa bene che ci sarà sempre un oppositore medita rivalse o cristianamente ha accettato insomma rivalse nei confronti di chi guardi rivalse nei confronti di chi quando chi mi obietta magari chi mi insulta accetta di discorso discutere beh gli metto dentro tanti di quei dubbi che quello va via frastornato c'è della gente proprio mi è successo l'altro giorno che mi dice ma io non sapevo queste cose Formigoni ma se sono andate così hai ragione ecco se chi invece lancia l'insulto passando via in bicicletta gli dico ciao senta l'appellativo che è stato affibbiato per tanti anni qual è la genesi di questo termine e chi è chi è l'autore mi hanno chiesto intanto secondo me perché la genesi di queste cose qui è sempre un pochettino misteriore secondo me è stato uno dei miei assessori che ha messo insieme vari elementi che convongono la mia personalità vabbè la mia appartenenza ACL il mio essere uomo di religione quindi vicino al Padre Eterno il fatto che stavo al trentesimo piano del Pirellone quindi là in alto poi a quell'epoca avevo comprato una magnifica giacca azzurra e la mettevo l'insieme di queste cose ha partorito questo sovrannome che onestamente non mi spiacque c'era una sottile presa in giro ma c'era anche tanto affetto tante cose poi comunque è diventato fortunato lei parla di giacca e ci serve un assist quell'arancione quell'arancione quante storie sono state raccontate su questa giacca arancione allora a voi dico come andarono le cose quando Milano vinse l'Expo l'esposizione universale che poi si sarebbe svolta nel 2015 la vittoria fu dovuta al sindaco Moratti e a noi che la aiutammo ma per una serie di motivi a partire fu farraginoso complicato la gente non capiva io capì intuì che bisognava dare una botta di vita bisognava coinvolgere i cittadini l'Expo non potrebbe essere soltanto delle istituzioni se no sarebbe stato inevitabilmente una cosa grigia allora dissi alla Moratti Letizia dobbiamo organizzare gli stati generali dell'Expo dobbiamo far vedere che c'è bisogno del contributo di tutti quindi chiamiamo gli architetti i creativi gli studenti gli operatori di moda i direttori di qui i commercialisti di laici e avremmo riempimmo il teatro lirico 3.000 persone tenno io la relazione introduttiva volevo far capire ai milanesi che l'Expo avrebbe potuto essere una grande festa popolare della durata di 6 mesi quindi bisognava dare sfogo alla fantasia all'iniziativa al design e allora comprai una giacca arancione e dici vedete cittadini oggi ho messo questa giacca non perché sono impazzito ma perché questo e mille altri sono i colori da dare all'Expo vivacità fantasia colore allora gli stranieri che verranno qui si innamoreranno del nostro essere italiani quella fu la giacca arancione poi da uomo un tantino risparmioso come sono avendo fatto fare la giacca arancione per l'inaugurazione dell'Expo la utilizzai in un paio di altre occasioni un'altra occasione quando vennero in visita una delegazione dei paesi arabi e vennero questi cento dignitari di corte con i loro caffettani bianchi e io dissi ma forse è il caso che io mi metta la giacca arancione questa è la pura verità dopodiché appunto si continua a dire giacca arancione giacca arancione come se formigoni non lo so che cosa insomma ma le utilizzai in queste due occasioni però se posso permettermi le dona di più l'azzurro e il celeste non c'è dubbio non c'è dubbio per lavorare mi doni più questo o il grigio eccetera eccetera trentesimo piano trentesimo piano ha diciamo in qualche modo richiamato una vicinanza con trentesimo da una parte e trentanovesimo dall'altra trentanovesimo una domanda ma visto anche il clima siamo in chiusura ci consentirà insomma il gioco lo scherzo volete essere ancora più cattivi insomma nei miei confronti ancora più penetranti ovviamente con tutti gli scongiuri del caso ma quando Roberto Formigoni si presenterà il più lontano possibile nel tempo davanti al buon Dio cosa pensa che le dirà il buon Dio a me o io a lui io non potrò che implorare misericordia evidentemente no di questo ne sono consapevole io mi sento profondamente inadeguato conosco i miei limiti conosco i miei peccati conosco che la salvezza è opera del Signore bisogna veramente domandargli d'altra parte lui è morto per noi per salvarci vuole la nostra salvezza questo dovrebbe rendere non dico ottimista ma speranzoso ciascuno di noi quindi io gli chiederò misericordia lui non lo so mi auguro che sia indulgente e misericordioso dopodiché se volesse fare l'elenco degli errori che ho fatto ma so che non sarà così ne farà tanti pensavo che mi chiedesse quando Formigoni dopo c'è una frase allora le ridico una frase che dicevo gli anni in cui cominciavo ad andare via da Milano ai miei amici dicevo sempre ricordatemi tenetemi tre metri sotto San Martino cimitero di Lecco sotto San Martino tre metri sotto San Martino vorrò essere essere sepolto nella mia Lecco ricordando fra l'altro il presagio della Batestopani di questo San Martino a Lecco parlate ancora del pericolo che incombe secondo Taluni secondo la Batestopani è vero che hanno appena realizzato mi auguro che non succeda mai ma hanno appena realizzato opere di contenimento quindi reti paramassi eccetera il San Martino però lì è un monito a ricordarci assolutamente che la nostra vita beh certo questo lo sappiamo è scimera e che le chiesi hanno scelto di mettere il cimitero sotto San Martino grazie grazie Roberto non concludiamo con il cimitero non concludiamo con il cimitero concludiamo con un saluto e forza Forza Milan Forza Lecco pensavo che Forza Italia funziona meno Forza Italia funziona meno Forza Italia Forza Italia concludiamo con l'episodio del calcio ma sì che vi ho raccontato prima va bene allora è noto che io sono un tifoso milanista tutti mi chiedono per forza sei milanista sei stato amico di Berlusconi dico no io ero rosso nero fin dal seno di mia madre però ero rosso nero e blu celeste tifoso dell'Ecco e tifoso del Milan L'Ecco è stato tre anni i giovani forse non lo ricordano anno 1961 io avevo 14 anni non ancora compiuti il Milan viene in visita l'Ecco l'Ecco era in serie A in quell'anno il Milan combatteva per lo scudetto che avrebbe vinto il L'Ecco combatteva per non retrocedere e purtroppo retrocedette andai a vedere la partita senza sapere per chi avrei tifato nel mio cuore c'era questa lotta di sentimenti e veramente ero lì in tribù nei popolari e non sapevo entrano le squadre in campo parte il grido L'Ecco L'Ecco mi unisco di slagio L'Ecco e tutta la partita ti fai L'Ecco fu l'unica volta che tradì il Milan ma lo tradì per le mie radici le radici sono più importanti e si scatenò anche in qualche improperio all'indirizzo di Riera che non riferiamo grazie Roberto grazie a voi buonasera ai nostri telespettatori Fabio ci rivediamo alla prossima settimana con primo piano grazie a tutti Grazie a tutti